Allora, io intanto voglio premettere che queste mie accuse sono di risposta alle accuse che già Daiane mi aveva fatto, cioè di essere una falsa, una stratega e una manipolatrice. Tu rivolgiti a lei, non a me. Allora, tu nelle puntate precedenti mi hai dato della stratega, della falsa, della manipolatrice, mi hai anche detto altre cose sul personale che comunque non voglio ritirare fuori, sconfinando come hai fatto spesso con gli altri, andando sul personale e non limitandoti a quelle che sono le dinamiche di questa casa. Quindi io stasera ti dico, cara Daiane, che ti ho scoperta, in realtà, la vera stratega, la vera manipolatrice, la vera falsa di questo grande fratello sei tu. E io ti faccio anche i complimenti perché sei una giocatrice strepitosa, però non accusare gli altri, cioè tu quando accusi gli altri vedi un po' quello che sei tu in questo gioco. E quindi in realtà quello che dici ormai non fa più l'effetto di una volta, cioè tu all'inizio buttavi queste bombe e io ci rimanevo anche male, ci sono anche stata male per alcune cose che hai fatto. Daiane, rispondi. Allora, visto che ho fatto un percorso con una donna di tantissimo caratteri, personalità e una intelligenza immensa, direi, tutto quello che lei dici è proprio lei. Grazie. 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 Grazie a tutti